Cavalli che vanno La lotta per il comando Con Ptfoto SM partito bene Porto Rico che parte altrettanto bene Va al comando Adesso all'esterno c'è il numero 10 Pentibus Prav che si può mettere secondo Perché Ptfoto SM non serra E così Cavalli dopo i primi 300 di gara Mentre ha sbagliato Pino Orlandi Poco a suo agio in questa partenza Cavalli dopo 500 metri da 1'13'4 Con Pentibus che si è messo secondo Così che Porto Rico può già rallentare Mentre viene all'esterno Pelè del Pino Che si trascina in schiena Polaris AS Il ritmo è blando, la corsa è lunga E Porto Rico fa i propri comodi 16-3 per questo paletto Marco Pettinari che controlla Pelè del Pino che viene a largo abbastanza convinto Raggiungendo il battistrada Dopo i primi 900 metri da 1'16'3 al chilometro Pariglie con pure Plutonio M Che è venuto a largo Cavalli che transitano adesso ai 1'100' di gara Da 1'16'5, 15'5 perché Pelè del Pino comunque forza Fa fatica a stare in schiena Polaris AS Che è smanioso di venire via Nonostante il ritmo adesso è brillante Perché l'eletta opposta alle tribune Va via in 15 secchi Mancano 800 metri Nessuno vuol spingere a fondo Con Porto Rico che comunque battistrada Controlla dalle retrovie Si lancia a largo Pedro MP Contrato da Polaris AS Quando siamo ai 600 finali Polaris AS che cerca di scavalcare Pelè del Pino Sbaglia Pedro MP Porto Rico è costretto all'allungo È richiesto anche Pentibus Prav 400 finali 15-1 per questo paletto La lotta tra Porto Rico e Polaris AS Polaris che va ai fianchi di Porto Rico Che adesso è richiesto Pentibus che sta calando Avanza invece Plutonio M 200 alla fine Porto Rico all'interno Polaris AS all'esterno Polaris su Porto Rico L'impressione visiva è che Polaris Possa disporre di Porto Rico Polaris AS che va su Porto Rico E quando il palo è vicino Polaris AS vince nei confronti di Porto Rico Per il terzo Plutonio M Su Ptfoto SM Parziale decisivo L'ultimo quello di Il terzo Plutonio M